Nello studio che abbiamo fatto abbiamo individuato nel software di produttività uno dei possibili cambiamenti. Abbiamo analizzato, abbiamo fatto uno studio a premessa di tutto questo. Abbiamo visto che LibreOffice e Microsoft Office erano equivalenti per le nostre esigenze. Abbiamo fatto uno studio dettagliato, abbiamo preso, abbiamo analizzato cosa i nostri utenti producevano con Microsoft Office. Abbiamo analizzato, abbiamo visto che tutto questo era possibile anche con LibreOffice. Quindi è stata una comparazione tra i due software. Abbiamo visto che non c'era decadenza di produttività. Questo è in WRIGHT, documento in WRIGHT. Adesso lo apriamo in WRIGHT. Questo è il libro di LibreOffice, lo so. Adesso lo apriamo in WRIGHT. Ecco, come nota è uguale. It's the same. It's the same. So you have no problem with forms. No, no, li apriamo contemporaneamente. So, how do you show that it's exactly the same? L'unica accortezza con vista tecnico è caricare le font simili. Cioè le font con cui viene scritto un documento deve essere presente in tutti e due i formati. Ma non c'è stata un po' di resistenza da alcune parti dello staff di dire, ma perché dobbiamo cambiare? Non ne abbiamo voglia. Qui arriva il lato militare, per cui funziona. Io voglio dire che l'opera di comunicazione ci ha aiutato molto ad affrontare questa resistenza. Diciamo che hanno capito che alla base c'era il risparmio, c'era il progetto di standardizzare i formati. Quindi l'opera di comunicazione ha sicuramente smussato queste resistenze. Siamo tranquilli, diciamo, di proseguire questo percorso. Quindi cercheremo di rispettare i tempi. What do you think the Europeans should do? Mettere una software house importante a livello europeo sarebbe auspicabile, però questo non vuol dire contrastare qualcuno. Ognuno, dal punto di vista informatico, è il vantaggio dell'open source che il codice è libero, è il codice aperto, quindi è disponibile alla personalizzazione. Quindi è una volontà di chi deve promuovere questo.